Lo stato d'animo che più caratterizza questo periodo è sicuramente la noia. Mi sento un po' giù, diciamo stanca, infelice, non più libera. Dall'allenamento di nuoto uscivo sempre con il sorriso e quindi mi manca proprio questo. Mi mancano un sacco di amici. Mi mancano gli abbracci. Provi contro della didattica a distanza? Per me i provo non esistono. Quando non riuscivo a capire qualcosa eri da solo. Quindi diciamo che la preparazione non è perfetta come quella che si può avere di presenza. Penso che il distanziamento sociale comunque abbia un fluido in parte negativamente sul mio rendimento scolastico. Per me sto andando meglio di quella che facevo a scuola. Mi sento più a mio agio. Finalmente so usare un computer. Un messaggio che vorrei condividere? Sicuramente quello di non arrendersi mai. Di riflettere su quello che abbiamo perché oggi lo abbiamo e domani non so. Noi studenti siamo ritrovati in un momento di crisi, però stiamo dando il meglio di noi stessi per riuscire a superare questo periodo. Noi studenti siamo ritrovati in un momento di iniziare.